E' deceduto a seguito delle complicanze legate al coronavirus Alfonso Migliorino, 53enne di Agropoli. L'uomo era ricoverato presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania da una settimana. Le sue condizioni purtroppo sono apparse sin dall'inizio piuttosto critiche, visti i gravi problemi respiratori sopraggiunti. I medici hanno provato anche a somministrare al 53enne il tocidizumab, farmaco sperimentato già a Napoli. Sono sette in tutto le persone contagiate nell'ambito del suo stesso nucleo familiare.